Ciao, siamo in portanza per Milano, siamo a sezione roba di bottina e dove potevamo fare colazione noi se non al caffè biologico? Cappuccino Nord, bollate di soia per me Cappuccino Nord, bollate di soia per me Cappuccino Nord, bollate di soia per me Siamo usciti adesso dalla mostra di Kandinsky, è stata splendida, seppur con opere inedite, la parte più bella sono state le installazioni, sia quelle visuali, perché è stata una mostra visuale in cui si è cercato di portare le opere di Kandinsky con una visual telling, e sia la parte in cui si è provato a riproporre il suo concetto di musica in una stanza di vita in cui muovendo le mani si attivavano un desonato. Cappuccino Nord Cappuccino Nord